Mi è venuta questa idea così, prendendo in mano un alberino di cartone, ho visto che mi si è smontato nelle mani e da lì mi si è illuminato subito l'idea di farlo in cioccolato. Ecco, come è composto di che materia prima, perché vediamo anche una base un po' particolare. Sì, praticamente giusto per dargli una giusta godibilità nel mangiare, ho fatto un alberino di cioccolato puro, quindi un buon cioccolato puramente fondente, dove ho attaccato sopra una serigrafia in pasta di zucchero con colori alimentari e l'ho arricchito sotto facendo un crumble, cioè un cioccolato arricchito con un wafer che mangiandolo dà molta coccantezza e piacevolezza al palato. Questa è la versione che quest'anno ho dedicato. Poi ci sono in studio altre due versioni che poi produrrò probabilmente un altro anno, perché quest'anno i tempi sono stati molto stretti e sarà una che lo vorrò far diventare un cioccolatino, quindi con una farcitura all'interno, una serigrafia all'esterno e poi una basta frolla, un biscotto, che a Natale va molto questo tipo di biscotto decorato.